Argentina, metà degli anni Sessanta. Il concilio Vaticano II si è appena concluso e la chiesa del grande paese latino-americano vuole tradurre in vita lo straordinario soffio dello spirito che giunge da Roma. Viene costituita una commissione pastorale formata da vescovi ed esperti di pastorale, nella quale spicca tra le varie personalità ecclesiali quella del teologo Lucio Gera. Il gruppo entra in contatto con la cattedra di sociologia all'Università di Buenos Aires, dove si sta sviluppando un metodo di analisi della realtà latino-americana non influenzato da ideologie liberali o marxiste. Da questo incontro scaturisce la cosiddetta teologia del pueblo, matrice di ispirazione per Papa Francesco. Uno dei massimi teologi argentini viventi, il gesuita padre Juan Carlos Scannone, ne spiega l'essenza. Una sua caratteristica principale è che anche nell'effettuare un'analisi sociale, essa non viene condotta sulla base di categorie liberali o marxiste, ma tramite la cultura e la storia dell'Argentina e dell'America Latina. Un'analisi storico-culturale, senza negare il sociale, da cui emerge la rivalorizzazione della religiosità popolare latino-americana, e specialmente argentina. E' questa teologia del pueblo, spiega padre Scannone, ad affascinare il giovane Jorge Mario Bergoglio. Una scelta di campo non di poco conto in un paese e in un continente dominato da dittature, dove anche la fede si politicizza facilmente come accade per la teologia della liberazione. In quella del pueblo, invece, batte il cuore della più genuina e profonda devozione popolare, che all'inizio fatica però ad affermarsi. Quando il concilio viene introdotto in Argentina e in America Latina, qui sono progressisti che però non tengono conto delle radici culturali dell'America Latina, preferendo invece le posizioni di pensiero di Parigi, di Roma o anche della Germania. Invece, vi sono altri che non lo fanno, che cercano di andare alle radici culturali e storiche dei popoli latino-americani, che sono meticci, dove trovano questa religione già profonda e si rendono conto che è una vera fede. Una vera fede sulla quale modella il proprio magistero il Vescovo di Buenos Aires, destinato a diventare il Vescovo del mondo. Come dice il Papa nella Evangelii Gaudium, non è tanto il credere Deum, quanto il credere in Deum, credere a Dio e credere la fede, non tanto nei contenuti della fede, quanto credere in Dio con abbandono, fiducia e amore. Riunendo così queste tre virtute ologali, anche se si manifestano in forme semplici, come dice Paolo VI, nella religiosità dei poveri e dei semplici, per questo preferisce parlare di pietà popolare. Poi Aparecida e Papa Francesco parleranno di pietà, di spiritualità e persino di mistica popolare. e anche di mistica popolare.